ciao allora oggi vi voglio parlare di questo primer per il viso della essence si chiama fresh and fit awake primer healthy glow poor minimizing effect con vitamin complex e chamber water ok allora la confezione e adesso ve la mostro perché ho visto il prezzo 30 ml di prodotto al prezzo di 4 euro e 49 prima cosa che vi devo dire perché l'ho sottolineata perché se no non me lo ricordavo e contiene silicone quindi l'incino nel massimo ma comunque sappiamo che è un primer low cost allora cosa intanto ve lo mostro che è questo qui dunque classico primer con il beccuccio dice di essere un primer illuminante ed effettivamente sì è davvero illuminante comunque vi ho fatto uno swatch che vedete adesso ciao allora questo primer mi è piaciucchiato devo dire che fa un effetto luminoso senza però sembrare una palla discoteca vi ricordo che però io ho la pelle mista tendente al grasso quindi questo lo utilizzo solamente nelle zone del viso dove non voglio che si illumini ancora di più perché la fronte e il naso e il mento anche i lati del naso sono le zone che si lucidano più velocemente quindi non le voglio far risaltare ancora di più quindi un primer che uso soprattutto sulle guance sui zigomi e mi è piaciuto sì ha un effetto illuminante discreto ne ho trovate alcuni che davvero facevano flash flash questo invece è più discreto applicato sotto al fondotinta ah lo applicate si massaggia un attimo assorbe velocemente non è appiccicoso quindi dopo se tranquillamente andando a truccare applicato sotto al fondotinta non crea macchie non si sposta anche se tendiamo a sudare durante la giornata nella zona T o ai lati del naso non tende a spostare anche il fondotinta quindi si comporta bene sì sicuramente ovviamente se avete la pelle secca tendete ad applicarlo un po' più su tutto il viso pelle mista grassa evitate la zona T quindi applicatelo solamente sulle zone che si vuole un attimo dare al risalto anche con un trucco leggero quindi magari correttore cipria ed è mascara ha un buon effetto illuminante e non è malvagio il profumo mi ricorda del talco a me però non è sicuramente talco ma non è troppo persistente sulla pelle ho trovato primer davvero molto più profumati che davano anche fastidio allora adesso andiamo a leggere un pochino cosa dice ed è io devo fare davvero una richiesta a quelli delle a chiunque vi prego scrivetelo più grande sto diventando accecata comunque dice di essere una primer illuminante minimizzante por minimizer quindi no non può essere se è illuminante non può minimizzare anche le pori perché sono due cose distinte se illumina e quindi mette in evidenza come fa anche a nascondere i pori no e infatti è una cosa che me la sono segnata non ho riscontrato assolutamente anzi con le imperfezioni por in evidenza pelle lucida lo mette più in risalto quindi va bene primer illuminante va bene per alcune parti del viso va bene per la pelle secca ma sono due cose distinte se volete minimizzare i pori c'è il primer apposito se volete illuminare c'è il primer apposito e nel mente sta girando questa confezione che secondo me sta diventando scemi a guardarmi comunque e l'inci abbiamo detto che non è il massimo abbiamo detto che che illumina sì ma non esageratamente non mi è dispiaciuto soprattutto devo dire nel periodo in estate no perché sono già lucida di mio però nel periodo primavera e autunno quando ho il make up che è più leggero del solito ma comunque se voglio dare un attimo di luce questo è valido valido funziona fa il suo lavoro questo sicuramente e quindi può andare anche perché ha un prezzo davvero basso vi ricordo che l'inci però ha silicone dentro ma si sa ve lo faccio vedere questo qui ed è basta direi che vi ho detto tutto quello che serve per sapere se sceglie questo prodotto oppure no ed è per la pelle mista o grassa sapete che deve illuminare per la pelle secca va bene anche per tutto il viso e io vi ho detto tutto basta non voglio più parlare e fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come se trovate come sempre io spero di essere stata utile se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così verrete avvisate ogni volta che calco un nuovo video e alla prossima ciao ciao